Il progetto sulla valorizzazione degli scarti di FICO d'India che ha avuto come capofile il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia tra i finalisti nella cerimonia Ape Agri Innovation Awards tenutasi ad Estorilla in Portogallo e BIO SCART è volto alla valorizzazione, al riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti delle produzioni siciliane di Opunzia Ficus Indica anche con l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili per una bioeconomia, le attività rientrano nella strategia dell'economia circolare di sostenibilità.